alla chiusura delle ali il più sollecito in partenza c'è lotta tra Memmio Ferm attaccato duramente all'esterno da Matrix OM con più a largo Marco Di Pino insiste Matrix OM vuole correre davanti scavalca Memmio Ferm a tabellone finisce nel frattempo Nielsen bypass il lancio in tredici e sei con eh Matrix OM che ha assunto deciso il comando delle operazioni nei confronti del numero due di Memmio Ferm cavalli che vanno a transitare davanti alle tribune ora c'è l'attacco di Network Di No al numero tre di Matrix OM cavalli che vanno all'attacco della penultima piegata con la scia nel frattempo di eh Network No è stata presa da Neela il passaggio a metà corsa in un minuto tondo tondo con quindici e cinque di frazione cavalli che vanno all' attacco del penultimo rettilineo comanda sempre Matrix OM con l'attacco duro di Neela il suo esterno che lo va a sollecitare uno quindici e sette il chilometro con sempre Neela all'attacco duro di Matrix OM cavalli che vanno al completamento della dritta di fronte vende cara la pelle Matrix insiste Neela al suo esterno uno trentadue tre quarti di miglio con Neela che tende a passare a scavalcare per l'appunto il numero tre di Matrix OM che sbotta di galoppo al suo inseguimento si presenta subito Maya Bred cavalli che entrano in addirittura di arrivo scappa via Neela centropista c'è lo sprint lo scatto di Marco Di Pino Marco Di Pino viene su con passo deciso Marco Di Pino passa e chiude la partita Marco Di Pino che va a vincere su Neela e sul numero due di Memmio Ferm in terza posizione lungo i Birilli due minuti tondi sul mio cronometro uno e quindici ragguaglio al chilometro l'ultimo quarto in ventinove e nove quattordici e tre per l'addirittura di arrivo la vittoria di Marco Di Pino con Joan Gabor che va a siglare questa terza corsa nei confronti del numero undici di Neela e Patrick D'Ambrogio terza posizione per il numero due di Memmio Ferm e Massimo Zanca